Musica Signori, oggi andremo a reagire a un video molto particolare In quanto è un video di Jaeger himself 2 Quello bello funny moments Ieri Blasi E oggi andremo a reagire a un suo video con titolo Unlimited più full auto Ibana X Kairos Praticamente nella miniatura c'è Ibana Che praticamente spara il suo gadget su tutto il muro Ha praticamente 300 palline quelle rosse che spara per far rompere il muro su tutto il muro Non so, vediamo, sono confuso, ok Let's go, questo è Ibana ovviamente Vai Ah Il nuovo cheat Questo è il nuovo cheat Tu prendi Ibana e usi l'arma per sparare Ah 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 Capisco What the fuck No, vabbè Non è nuovo Di quanto è? Io non l'ho Oh, vi giuro, io non l'ho mai visto, eh Raga, io Io sta cosa che sta succedendo qua Io non l'ho mai visto È la prima volta che io vedo Ibana a fare questo Yes, c'era pure morto Comunque, abbiamo Oryx che vuole pushare What? È quello, gli chiude la botola Ma gli chiude la botola con la botola rotta Come cazzo ha rinforzato la botola? La botola non c'era È stata molto carina questa cosa Allora Abbiamo Non l'ho capito Sinceramente sono stupido Ah Quello citta Ah Vabbè Il classico Blitz Che Da il colpo e muore la gente Ok, ok Era vecchio, ok L'ha ucciso col Con lo Ying What the fuck Allora, un'aberrazione di Caveira Ne ammazza uno Sulla mappa Airfold Porco d'ora, si è fatta una tripla Ma Thatcher Thatcher, fratello mio È un po' rincoglionito il ragazzo Insomma Lol Ragazzi, l'ha ammazzato Quattro Con la Con la C4 Minchia, gli ha fatto un flick Eh, se la sta spassando Bandit lì Mi sa che il mate Sta un po' laggando Mi sa che il mate S'è un po' Clicciato Vabbè Se sponchili però in questa zona Sei stronzo Se sponchilla Ragazzi Se uno sponchilla In questa modalità Sei veramente stronzo Cioè, dai È una modalità per ridere Per scherzare Tu sponchilli Mortacci Da vip Cioè, ma Non devo mai morire Perché c'ho lo scudo Però, vabbè Lol Si è fatto tutti Guarda che stronzo Ma dai Ma Ah no, ok Questa cosa magari è più divertente Cioè, ma sponchillare Mortacci Da vip Se succede rido Se è preso Ok Aveva anche sbagliato Che aveva anche sbagliato La palombella Ragazzi Era quello dietro Lol Ragazzi 100-100 Lo ammazza No No Che scar- No Madonna Madonna ragazzi Madonna Cosa stava succedendo Con quel muro Madonna Ho visto Un flipper assurdo Eccola Sì 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 Però ragazzi Qui Do Kebi Non c'entra niente Poverina Mi piazza pure il culo in faccia Addirittura Ah ma Qui è quando i corpi Non si levavano Quando i corpi Restavano Che sta succedendo In questo mondo Lo sto capendo Orix sta un po' panicando Secondo me C'è più di questo Oh fuck Ah vabbè Quando Il panic è più forte Dell'altro panic No Ammazzato Ti devo dire Penso abbia ucciso Anche il creatore Della mappa Con quel c4 Porco 2 E qua ragazzi Questa uscita E' molto bella Io non la faccio mai Però è molto bella Porco 2 3 kill Te l'ha fatto Addirittura Pure il panic fire Va benissimo Allora Stronzi Loro che non hanno coperto Lì eh Porco 2 Nip fire Senza il laser Porco 2 Oh frate Oh frate E' bello Molto bello Molto carino Madonna ragazzi Ma che tappo Gli ha fatto Quello Fra 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 E poi fa E poi fa queste cose Capite No No Zio ti suicidi Zio Somma Comunque quello Gli ha fatto Un 200 Q No Gli anni Alla Ma ha preso Attraverso il muro No Era un hip fire Lol Quando il coltello Non funziona Ma Fra Come è fatto A non averla A sinistra Insomma Io ve l'ho sempre detto Che il mondo Delle console È particolare Molto particolare Veramente Eh ragazzi È molto esilarante Ogni tanto È particolare No vabbè No ti prego Oh mio dio Penso sia bullissimo Comunque quello Madonna Fra Quel drone Penso Sia parte Della scrivania What the fuck Ma in che senso Mio dio ragazzi Copy Brian Ai tempi d'oro Quando giocavo Proprio Oh no Oh no Oh no Ralla ragazzi Flores è fottuto Raga Ma Ma perché Perché è il cheater Non è che è un cheater Non lo so No 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 Oh mio dio È anche un'esecuzione Praticamente Madonna Ah Comunque ragazzi Ci sono clip Vecchissime È volata dalla map Ci sono clip Vecchissime Oh no Purtroppo Non c'entra Neanche niente Cap Can Just a ghost Ma Lol Cioè Allora O era un HP Perché Dai dai Su Che qualità Porco tu È una qualità Splendente Potremmo dire Ah col maverick L'ammazza veramente Col maverick Vabbè Ti devo dire Una kill Molto particolare Ma doc Ma ragazzi Ma doc No vabbè Cioè Quello disgustoso Ragazzi È stato doc E Lui neanche è morto Vabbè Alcune cose Ragazzi Non le capirò Mai Su Rainbow Vi giuro Mai Mai nella vita Ma tu hai continuato Da ore fa Da quando hai iniziato Eh Sì Edwin Eh Sta granata Ragazzi È il top Eh Sta granata È top Mi si è perso Lebron James Ma sono perso Che è successo Eh intanto C'è questa che schiaffeggia Il culo di tutti Madonna Cioè Porco Due Ma è da lì Addirittura Ma maverick Cosa starebbe Mai Guardando Da lì Perché sta coprendo Quella parte Mio dio Ragazzi Cioè Se mi succedesse a me Verrei Valese L'ultima clip Cioè A me viene un infarto Verrebbe veramente Un infarto Comunque A me viene un infarto